salve ritorno a girare dei video su argomenti che ho trattato in alcuni articoli del mio blog e questa volta la scelta è caduta su argomenti riguardanti la meccanica quantistica quindi in questo in questo video parlerò di due articoli di cui ho parlato e ho fatto una scelta dovuto fare una scelta perché ho trattato l'argomento in diverse occasioni però mi sono accorto che di alcuni di questi argomenti ho già parlato in alcuni video senza menzionare esplicitamente gli articoli che avevo scritto quindi eventualmente alla fine farò una sorta di riassunto e indirizzerò anche agli altri contenuti che ho già realizzato. Premetto che in questo video non affronterò i principi della meccanica quantistica quindi le basi formali o per così dire concetti matematici per questo sarebbe ci sono già abbastanza video per esempio video lezioni disponibili online ci sono alcuni canali che si occupano di didattica anche della fisica e quindi non è il mio obiettivo questo non è l'obiettivo di questo video oltretutto come sempre io suggerisco per chi vuole conoscere approfonditamente questi argomenti di procurarsi un libro di testo e quindi un libro universitario un'introduzione alla meccanica quantistica e studiare su questo e questo è l'approccio migliore che si può avere qui tratterò solo alcuni argomenti attinenti alla meccanica quantistica o sue interpretazioni o anche applicazioni due particolari una parte sarà dedicata a interpretazioni e una a una particolare applicazione di cui ho trattato in due articoli del mio blog che poi lascerò di cui lascerò il link nella descrizione del video la prima parte riguarderà questioni che riguardano errate interpretazioni della meccanica quantistica che portano a fraintendimenti e a stravolgimenti che portano poi a teorie che sono un po campate per aria che non hanno solide basi nella teoria e che quindi che hanno suscitato in me una certa avversione una certa irritazione diciamo per questo ho affrontato l'argomento anche in passato e di qui appunto su cui ho insistito un po'. Allora innanzitutto è necessario per capire qual è il problema nella meccanica quantistica quali sono le errate interpretazioni fraintendimenti è necessario parlare del problema della misura avrete già sentito parlare della misura in meccanica quantistica come di un punto cruciale un punto fondamentale e anche il modo in cui la misura influenza la nostra definizione di ciò che è reale cioè cosa intendiamo noi per reale in base a come funziona il processo di misura o di osservazione meccanica quantistica. Allora partiamo subito dicendo che esistono certe interpretazioni un po' come dire fantasiose o comunque distorte diciamo del processo di misura della definizione di misura che portano a visioni del mondo che io chiamo spiritualistiche anche se inteso forse in senso improprio cioè che vanno al di là di quella che è la base teorica e come dire l'interpretazione standard della meccanica quantistica e in particolare c'è una di queste versioni perché vede la coscienza dell'osservatore che tipicamente quindi è un essere umano uno sperimentatore al centro del processo di misura e che quindi in qualche senso porta a concludere a trarre la conclusione che la coscienza dell'osservatore dà forma e sostanza alla realtà motivo per cui cioè tale per cui la realtà oggettiva del mondo non esisterebbe se non ci fosse un osservatore cosciente che appunto dà forma alla realtà oltretutto ci sono deviazioni se vogliamo ancora più estreme che portano a concludere che la realtà stessa non esiste per cui perché siamo noi stessi come osservatori coscienti a dare forma alla realtà quindi in assenza di osservatori la realtà non esiste per questo volevo volevo fare l'esempio di questa domanda diciamo celeberre ma per cui se un albero cade in una foresta tra le montagne dove non c'è nessuno ad ascoltarlo questo albero fa rumore questa è una domanda di tipo quasi filosofico a cui secondo questa interpretazione si dovrebbe dare risposta no perché se non c'è nessuno ad ascoltarlo evidentemente il rumore non è come dire non c'è ragione per per credere che sia stato emesso alcun rumore in verità secondo me la risposta è sì perché il processo diciamo l'evento di un albero che cade avviene a prescindere che ci sia qualcuno ad ascoltarlo e il rumore viene messo come semplice processo fisico no quindi è lo stesso motivo per cui noi siamo confidenti nel fatto che che ne so io il sole esista anche quando qui è notte anche se noi non lo vediamo esiste comunque solo stiamo dal lato opposto del pianeta oppure i pianeti e le stelle che esistono nell'universo esistono anche se noi non stiamo lì ad osservarle esistevano ancora prima che l'essere umano fosse presente sulla terra quindi la realtà oggettiva la verità oggettiva della realtà dovrebbe esistere a prescindere dall'esistenza di un osservatore cosciente però per capire da dove vengono queste interpretazioni un po forzate della meccanica quantistica bisogna arrivare bisogna partire dalle origini cioè da dove c'è cosa consiste sostanzialmente la misura in meccanica quantistica allora farò una breve breve riassunto una breve punto menzionerò alcuni principi fondamentali della meccanica quantistica ma come ho detto all'inizio questo non vuole essere un video didattico sulla meccanica quantistica però questi concetti mi servono allora innanzitutto secondo la meccanica quantistica un sistema ogni sistema fisico è descritto da una funzione d'onda che è una funzione complessa che esiste in uno spazio di configurazioni o di variabili e determina la distribuzione di probabilità del sistema in questo spazio di variabili in un senso molto astratto e matematico in questo senso l'operazione di misura consiste in una nell'azione di un operatore matematico che corrisponde a una certa quantità fisica osservabile sulla funzione d'onda e l'azione di questo operatore causa il collasso della funzione d'onda su uno degli autostati del sistema per capire meglio cosa sono questi questo concetto di operatori funzione d'onda autostati bisognerebbe conoscere la teoria dello sviluppo delle funzioni in sette ortonormali completi e spazi di Hilbert e cose del genere quindi sono tipi di background matematici che non sono chiaramente comuni a tutti e non voglio investigare volte non voglio entrare troppo nel dettaglio comunque questa è la formulazione matematica cosa succede che ciascun autostato quindi ciascuno di questi stati in cui si va a trovare il sistema ha una certa probabilità che si può calcolare come elemento di matrice di questo operatore su tale stato quindi un integrale effettuato sulla funzione d'onda attraverso un certo operatore quindi anche questa è una quantità che si può calcolare matematicamente non c'è niente di trascendentale però quello che succede è che fin tanto che il sistema non è osservato o non è soggetto a misura evolve in modo deterministico tramite l'equazione di Schrödinger che è un'equazione d'onda, un'equazione delle derivate parziali che descrive l'evoluzione del sistema in assenza di processi di interazione quindi finché il sistema si comporta in modo coerente. Solo nel momento in cui viene effettuata la misura appunto il sistema collassa in un autostato e per così dire per noi acquista un valore definito cioè acquista una realtà definita se vogliamo intenderla in questo senso. Il punto è che fin tanto che questa operazione di misura non viene effettuata non ha proprio senso chiedersi in quale stato si trovi il sistema perché il tutto avviene ad un livello cui noi non abbiamo accesso che è il livello della funzione d'onda che esiste appunto in uno spazio di variabili, in uno spazio complesso a cui non abbiamo accesso, tanto per dirla in una maniera sintetica. L'esempio che viene usato per, che però poi è dato origine a un paradosso, cioè è nato in maniera provocatoria per dare una sorta di, dare origine a una discussione, è quella del gatto di Schrödinger, gatto che si trova in una scatola e in base ad un processo quantistico che ha una certa probabilità appunto il gatto può essere vivo o morto e fin tanto che noi non apriamo la scatola non siamo in grado di dire se il gatto è vivo o morto e quindi secondo l'interpretazione della sovrapposizione di stati il gatto è contemporaneamente vivo e morto, ma non è vero perché questo non è vero letteralmente, perché il gatto è un sistema macroscopico e noi sappiamo che esiste un processo, un tal, diciamo, un fenomeno per cui gli oggetti macroscopici acquistano realtà intrinsecamente, ma ci arriverò più tardi. Allora, queste cose le ho già dette appunto. Allora, in cosa consiste la misura? Secondo l'interpretazione standard, l'interpretazione più largamente condivisa, consiste nell'interazione di un sistema macroscopico con un sistema quantistico o microscopico. Cosa significa macroscopico? Significa che è grande abbastanza da sostanzialmente non essere significativamente, come si dice, influenzato affetto dagli effetti quantistici. Vale a dire che i principi della meccanica quantistica non sono così decisivi per la dinamica di questo oggetto. Quindi, per esempio, un granello di polvere è un oggetto relativamente piccolo, ma grande abbastanza da essere considerato classico, perché noi possiamo in ogni momento determinare la sua posizione e velocità e possiamo seguirne la traiettoria. Per esempio, lo stesso non vale per un elettrone a livello proprio microscopico. Allora, un'altra cosa importante è che questo sistema macroscopico non deve necessariamente essere cosciente. Può essere qualunque cosa, può essere un detector, cioè un rivelatore, per esempio, come nell'esperimento della doppia fenditura che osserva il passaggio di una particella, oppure un oggetto macroscopico qualunque come appunto un granulo di polvere, come ho già detto. Quindi immaginatevi un atomo nello spazio interstellare, nel vuoto, quindi in privo di assoluta interazione con qualunque cosa, e un granulo di polvere interstellare passa, interagisce con l'atomo e causa, per esempio, una transizione, che so io, un cambiamento nello stato dell'atomo. Questo è equivalente a un procedimento di misura in cui non c'è nessun osservatore cosciente coinvolto. Quindi il processo di misura non richiede la presenza di una coscienza, in questo senso. Allora, cosa distingue un oggetto microscopico da un oggetto macroscopico? Cioè qual è la soglia al di sopra o al di sotto della quale si passa da un regno ad un altro, dal regno classico a quello quantistico? Questo non è ben definito, non è ben chiaro ancora, e in effetti, diciamo, col procedere della tecnologia, dell'accuratezza delle misure, oggi si riescono a testare proprietà quantistiche anche su oggetti relativamente grandi. Per esempio, se è partito prima dalle particelle elementari, gli atomi, ioni per esempio, nuclei carichi, fullereni. I fullereni sono macromolecole di carbonio che possedono 60 atomi di carbonio, quindi sono abbastanza grandi, continuano a mostrare proprietà quantistiche, per esempio creano pattern di interferenza nell'esperimento della doppia fenditura. E oggi si pensa che anche i virus, che sono la forma più vicina alla vita, sono ancora un proto vita, diciamo, sono una vita piuttosto ancora elementare, e sono molto piccoli e possedono certe proprietà quantistiche, sono influenzati in qualche maniera da certe proprietà della meccanica quantistica, quindi il livello si sta spostando sempre di più, siamo in grado di osservare fenomeni quantistici anche in oggetti relativamente grandi. Però cosa succede? che al crescere della dimensione, della complessità in termini di numero di costituenti e dell'energia dell'oggetto, cosa succede? Che sostanzialmente viene una sovrapposizione incoerente, quindi anche una interferenza tra le varie funzioni d'onda dei costituenti che costituiscono appunto questo oggetto macroscopico. Questa sovrapposizione e interferenza ha lo stesso effetto di un procedimento di misura, della misura da parte di un oggetto macroscopico sul sistema quantistico, quindi l'effetto complessivo è quello che l'oggetto complessivamente si comporta come se fosse classico, quindi dal nostro punto di vista acquista realtà fisica in virtù di se stesso, quindi non c'è bisogno dell'intervento di qualche cosa di esterno, dell'operazione di qualcosa di esterno per dare realtà a questo sistema fisico. Quindi appunto esiste un principio, esiste una ragione per cui oggetti come il gatto di Schrödinger non è un oggetto quantistico perché è un oggetto talmente complesso, talmente grande, con un tale numero di costituenti elementari che è impossibile statisticamente che si comporti in maniera quantistica. Quindi adesso faccio un breve salto appunto per parlare di un altro argomento, ma alla fine farò un breve riassunto. Allora l'altro argomento, l'altra interpretazione diciamo che interessa discutere è quella della sostanzialmente cosa succede alla realtà quando avviene un processo di misura. E metterò a confronto due interpretazioni, una è quella di Copenaghen, da Niels Bohr, che è un grande fisico teorico dall'inizio del Novecento, che era danese, e questa è quella più largamente, come dire, accettata nella comunità scientifica e consiste nel fatto che quando avviene un processo di misura appunto la funzione d'onda del sistema collassa in uno dei suoi autostati e noi osserviamo la quantità misurata come osservabile fisica. E questo ho già detto più volte, quindi ormai mi sembra che sia entrata, spero di aver ricomunicato il concetto. L'altra interpretazione che voglio confrontare è quella detta Many Word Interpretation, o Interpretazioni a Molti Mondi, di Hugh Everett. Questa interpretazione è stata formulata da Everett nella sua tesi di dottorato, è stata spiegata largamente in dettaglio, quindi se volete recuperarvi la sua tesi e se avete molta pazienza potete provare a capirla. Il punto è che è un'interpretazione più difficile da intendere nel senso veramente formale, come lui l'ha formulata, ma che ha dato origine a un'interpretazione più intuitiva che è diventata molto popolare, che è quella letterale, diciamo, per cui il processo di misura causa essenzialmente la diramazione della realtà in più universi o più realtà parallele, e in ciascuna delle quali il sistema assume uno dei suoi autovalori, quindi il sistema collassa in uno dei suoi autostati. Quindi la funzione donna non ha una certa probabilità di finire in uno dei suoi autostati, ma cade, finisce in tutti gli autostati a lei disponibili, solo che questo processo causa uno splitting, una divisione, un branching, si potrebbe dire in termini più significativi dell'universo. Ora, questo porterebbe, secondo questa interpretazione, al fatto che la realtà in cui viviamo, l'universo in cui viviamo, è solo uno degli innumerevoli universi che si sono creati nel corso del tempo, quindi fino ad oggi, in seguito a tutti i processi di misura quantistici o processi di collasso della funzione d'onda, secondo l'interpretazione di Bohr, e quindi ci sarebbe un'infinità di universi che continuano a diramarsi, ok? E questo processo continuerà in eterno. Ora, questo non è appunto come era stata formulata la teoria Many-World da Everett. La formulazione originale di Everett era più espressa in termini di punto di vista o, per così dire, percezione dell'osservatore, dell'esito della misura, tale per cui sostanzialmente lo stato dell'osservatore non è più indipendente dal sistema fisico che sta osservando. In pratica l'interazione è tale per cui vengono accoppiate, in un certo senso, la funzione d'onda dell'osservatore e quella del sistema quantistico. Per cui il vero esito della misura è data da una funzione d'onda, da una, diciamo così, da una configurazione collettiva che vede appunto l'accoppiamento del sistema dell'osservatore con il sistema quantistico. Il punto è che, io l'ho spiegato in maniera molto, diciamo, superficiale, appunto la formulazione rigorosa richiede che voi leggiate o studiate la tese di Hugh Everett, io non l'ho letta completamente, l'ho solo un po' sfogliata, quindi neppure io la conosco così approfonditamente. Il punto è che al lato pratico, quindi quando si va a, per così dire, a calcolare le probabilità delle varie misure, si ottiene lo stesso risultato che si ottiene con l'interpretazione di Copenhagen, quindi da quel punto di vista sono perfettamente equivalenti e non c'è modo di distinguere quale delle due sia più corretta. Ora, la mia obiezione non è tanto all'interpretazione di Everett nella sua formulazione originaria, quanto alla sua interpretazione letterale in termini di branching o di ramazione degli universi, e la mia obiezione è di tipo, se vogliamo, economico in un certo senso, è una specie di rasoio di Occam, vale a dire che io vedo, dal mio punto di vista, molto più logico e molto più, come dire, verosimile, ecco, che esista un universo che ha potenzialmente infiniti esiti, infiniti esiti della misura, quindi infiniti possibili evoluzioni, se vogliamo, piuttosto che un'infinità di universi che non hanno scelta, ma in ciascun universo avviene una determinata cosa con una certa, anzi col 100% di probabilità, e questi universi evolvono parallelamente e poi continuano a diramarsi. questo lo vedo come una, come dire, un'interpretazione forzata, ecco, e anche in gran lunga dispendiosa in termini di volume, no? Stai creando universi, non mi sembra una cosa da poco, però questa è la mia interpretazione e, come dicevo, non c'è modo di capire quale delle due versioni sia quella corretta, perché anche se fosse vera, noi non avremo accesso agli altri universi e quindi per noi questo sarebbe l'unico universo che esiste. Ecco, forse ci sono dei metodi effettivamente per valutare se esiste, se la teoria di Everett è corretta, basata su certi ragionamenti che però io non ho investigato, ci sarà qualcuno che se ne occupa ovviamente. Però c'è un punto che mi interessa discutere, cioè questa interpretazione è abbastanza popolare o meglio accattivante per il pubblico generico che non conosce forse le basi concettuali della meccanica quantistica, perché in un certo senso è più semplice da capire rispetto alla interpretazione di Copenhagen che prevede il collasso di una funzione d'onda, all'opera di un operatore, quindi sono concetti matematici che la gente non conosce, non padroneggia, in più perché è più, si presta di più a fornire sviluppi fantastici o del fantasy per esempio nella fantascienza, quindi è più possibile giocare su questa esistenza di universi multipli per creare storie fantasy, e questo è già stato usato in diversi film, in diversi contesti. E anche l'argomento del ruolo della coscienza nell'operazione di misura, che ho trattato nella prima parte, anche questo è a più favore di pubblico perché in un certo senso mette l'essere umano con la sua coscienza al centro dell'universo, perché è la coscienza dell'uomo che dà forma e sostanza alla realtà, e addirittura se non ci fosse l'essere umano la realtà non esisterebbe affatto, cosa che per me è irragionevole. Quindi secondo me, per concludere questa prima parte, non è necessario forzare le interpretazioni della meccanica quantistica portandoli a questi estremi, diciamo a queste distorsioni così lontane dall'originale, solo per rendere la cosa più accattivante, più piacevole per il pubblico generico, perché secondo me la meccanica quantistica e la scienza in generale sono già affascinanti e bellissime di per sé, se uno approfondisce abbastanza la loro conoscenza, il loro studio, e quindi secondo me non è necessario appunto forzare troppo le interpretazioni e inventarsi chissà quali interpretazioni fantasiose. Con questo concludo questa prima parte e vorrei suggerire, siccome qui ho trattato solo alcuni aspetti del problema, in un altro video che era a sua volta ispirato se vogliamo a un topic, cioè a un post del mio blog, tratto di argomenti ontologici, aspetti ontologici, quindi di filosofia più approfondita, se vogliamo più fondamentale, riguardanti la meccanica quantistica e soprattutto la teoria quantistica dei campi. Questo si chiamava Ontological Aspects of Quantum Field Theory e di questo lascerò un link appunto nella descrizione. Adesso passiamo al secondo argomento. In questa seconda parte voglio parlare di un'applicazione particolare della meccanica quantistica, anche se in verità è più un'applicazione della teoria quantistica dei campi allo studio delle particelle elementari, quindi in particolare di una proprietà di una particella elementare, ed è il momento magnetico anomalo del muone. Secondo me questo è un esempio, tra tanti, che mostra la potenza del formalismo e della struttura della meccanica quantistica in termini di capacità di predire appunto osservazioni fisiche, quindi di avere un fantastico accordo diciamo con le osservazioni sperimentali, e anche la bellezza del metodo, della sistematicità, il modo in cui tutto quanto è stato formalizzato in modo preciso. Allora innanzitutto qui si tratta di un argomento che riguarda le particelle elementari, magari non tutti sono familiari appunto con queste particelle elementari, devo così introdurre alcuni concetti, devo ricordare alcune informazioni, alcune nozioni. Allora le particelle elementari sono, è difficile definire cosa sono, in un altro video le ho definite in più modi, come manifestazioni dei campi, fluttuazioni nei campi quantistici, o addirittura come manifestazioni fisiche di proprietà di simmetria delle leggi di natura. In questo caso, per i nostri scopi di oggi non ci interessa sapere cosa sono a livello fondamentale, però sono caratterizzate da certe quantità, proprietà intrinseche, come per esempio la massa, la carica elettrica, lo spin e il momento magnetico appunto, che è l'argomento principale. Queste caratteristiche intrinseche possono essere misurate, quindi sono osservabili fisiche, e è possibile confrontare l'esito delle misure su queste quantità con previsioni della teoria, per quelle quantità per cui è possibile fare delle previsioni teoriche appunto, per non per tutte è ancora possibile. Alcune sono solo parametri liberi della teoria, altre si possono calcolare. Allora, innanzitutto esistono valori di queste quantità che si possono definire all'ordine zero all'ordine imperturbato delle teorie. Cosa significa imperturbato? Immaginate di prendere un elettrone e metterlo nel vuoto da sé, isolato da tutto il resto dell'universo, avrà delle proprietà intrinseche a cui possiamo assegnare il valore zero, il valore intrinseco imperturbato. Però noi sappiamo dalla teoria che queste quantità si, per così dire, vestono di certe perturbazioni, quindi vengono modificate, vengono influenzate da dei processi di autointerazione, cioè significa che la particella non è mai veramente isolata dall'universo ma interagisce con se stessa tramite dei fenomeni che sono descritti dalla teoria delle perturbazioni. Questi fenomeni, questi processi portano a modifiche o appunto variazioni in queste proprietà fondamentali per cui è possibile calcolare le correzioni a queste quantità dovute agli effetti perturbativi. Tutto questo lungo discorso serviva appunto a introdurre così lo schema generale di questo argomento. Parliamo di momento magnetico anomalo del muone. Allora, questo significa che noi stiamo calcolando l'anomalia di cui si parla qui è la deviazione del valore vero di questa quantità dal valore di ordine zero, che entra quindi nelle teorie senza considerare questi effetti di autointerazione, che però sono fondamentali. Allora, cos'è il muone? Il muone è una particella elementare che è parte di una famiglia di particelle che sono dette leptomi. esistono particelle, esistono leptoni carichi che sono, carichi negativamente, sono l'elettrone, il muone e il tau e poi esistono i neutroni, i leptoni neutri che sono i neutrini. L'elettrone è quello più familiare, tutti avete familiarità con l'elettrone, il muone è un pochino più esotico, è una particella che è circa 200 volte più massiccia, più pesante dell'elettrone ed è instabile, ha una vita media di circa 2 microsecondi. Il tau pesa circa 5 volte, se non sbaglio, forse 10 volte nel ricordo, comunque significativamente più del muone ed ha una vita media ancora più breve. Quindi ci sono certe caratteristiche che rendono il muone il soggetto ideale per certi studi, per certi tipi di calcoli, diciamo, e certi tipi di verifiche teoriche, diciamo, della teoria, del modello standard, delle particelle, rispetto per esempio all'elettrone che è stabile e comunque ha una massa molto piccola, o rispetto al tau che invece è molto instabile ma ha una massa molto grande. Quindi detto questo, spero di aver fornito un inquadramento generale, poi alla fine fornirò anche un riferimento biografico per poter approfondire. Allora, il momento magnetico di cui si parla è una quantità che è associata alle particelle, è una quantità vettoriale, quindi come una freccia, diciamo così, ed è di solito associata, in termini classici, il concetto a cui siamo più familiari, a piccole spire di corrente, piccoli loop di corrente che generano un campo magnetico e un appunto un momento magnetico. per esempio una bobina percorsa da corrente, oppure un magnete, un magnete stesso, una calamita, possiede un momento magnetico. L'effetto del momento magnetico di un associato a un oggetto è quello di causare un'interazione con un campo magnetico esterno, per esempio immaginate una piccola calamita, un cindretto, un dischetto magnetico, in presenza di un campo magnetico più grande come quello per esempio di un amplificatore, di un altoparlante, il magnete piccolo tenderà a allinearsi nella direzione del campo magnetico esterno, questa è una torsione che è operata dal momento magnetico. Allora, le particelle non hanno correnti associate ad esse, non hanno un'intrinseca rotazione che può generare un campo magnetico, però possiedono un momento magnetico intrinseco che è proporzionale al loro spin. Ora, lo spin è una questione, un oggetto, una quantità molto particolare nella meccanica quantistica, è una quantità intrinsecamente quantistica e non è possibile interpretarla in modo classico, se non stravolgendone il significato. A volte si dice che lo spin è come se la particelle ruotasse intorno a un proprio asse e per questo si chiama anche momento magnetico, momento angolare intrinseco. Però questa interpretazione non è corretta a livello fondamentale perché le particelle elementari, per quanto noi sappiamo, sono puntiformi, quindi non hanno un asse intorno a cui ruotare, non hanno nessuna parte che può muoversi intorno ad un asse, sono puntiformi. È più sensato interpretare lo spin, o meglio, comprendere lo spin a partire dalla teoria relativistica che è quella di Dirac, la famosa equazione relativistica dell'elettrone di Paul Dirac. Lì lo spin emerge in maniera naturale dalla formulazione matematica del problema. Però senza andare troppo oltre in cosa sia lo spin, qualcosa che non è obiettivo di questo video, il momento magnetico è proporzionale allo spin attraverso due quantità, due coefficienti. Uno è una combinazione di costanti fondamentali della natura che costituiscono il magnetone di Bohr, detto così da Niels Bohr. L'altro è il fattore giromagnetico, che è una quantità adimensionale, viene indicata tipicamente con g minuscolo, ed è quello di cui si parla qui, cioè quindi la deviazione del vero fattore giromagnetico da quello previsto dalla teoria all'ordine più basso. E siccome, come dirò più avanti, il fattore previsto dalla teoria di Dirac è g uguale 2, l'anomalia del momento magnetico, del fattore giromagnetico, di solito si indica come g meno 2. A volte viene trattato così nei testi. Allora, il punto è che la misura di questa quantità, di questo fattore giromagnetico, è diventata negli anni molto precisa, quindi l'accuratezza delle misure è diventata esageratamente grande e anche il sistema di misura è diventato abbastanza semplice, per cui molti laboratori nel mondo sono in grado di misurare questo g meno 2, o g semplicemente, con un'accuratezza elevatissima. E la teoria ha dovuto progredire, ha dovuto cercare di migliorarsi progressivamente per tenere il passo con questi miglioramenti sperimentali, quindi sempre nuove correzioni alla teoria, diciamo, i calcoli sono dovuti entrare in gioco per poter confrontare, per poter leggere il confronto a quegli esperimenti. Ora, inizialmente il fattore GU uguale 2 era in accordo con gli esperimenti perché l'accuratezza nelle misure era abbastanza bassa ai tempi di Dirac o immediatamente successivi. Le misure più precise richiesero di andare oltre l'ordine 0 e introdurre quindi le perturbazioni. La teoria delle perturbazioni è qualcosa di complesso e la sua formulazione matematica avviene tramite i diagrammi di Feynman e di cui non parlerò oggi perché è un argomento estremamente complesso, ma vi mostrerò degli esempi di questi diagrammi alla fine del video. Il primo ordine perturbativo è stato effettuato il calcolo da Schwinger e questo calcolo diede una correzione di ordine alfa su 2π, dove alfa è la costante di struttura fine dell'elettromagnetismo o elettrodinamica in verità e vale 1 su 137 all'incirca e alfa su 2π è dell'ordine di 1,2 per mille, per 10 alla meno 3, quindi è un fattore circa un millesimo, quindi una correzione relativamente piccola e questo era una buona prima approssimazione. Questa correzione, tra l'altro, alfa su 2π, compare anche nella correzione al fattore giromagnetico dell'elettrone. Anche lì la teoria di Dirac prevede all'ordine 0 g uguale 2 e all'ordine 1 questo fattore di correzione alfa su 2π. Tuttavia c'è un motivo per cui si preferisce studiare il muone anziché l'elettrone. Allora, innanzitutto il calcolo del momento magnetico anomalo dell'elettrone oggi è noto con un numero di cifre significative uguale a 14, quindi è qualcosa, cioè g-2 è noto fino alla quattordicesima cifra decimale, che è un'accuratezza incredibile. Credo che questo sia, come dire, il top della precisione dell'accordo sperimentale che sia mai stato raggiunto nella fisica, quindi è una cosa di cui andare fieri, cioè i fisiteorici ne vanno fieri. Però questo calcolo fa uso solo della elettrodinamica quantistica, quindi per l'elettrone è sufficiente utilizzare l'elettrodinamica quantistica, che è la teoria di campo più semplice da formulare anche in cui eseguire calcoli. Questo perché l'elettrone è sufficientemente leggero, ha una massa abbastanza piccola, da poter trascurare correzioni proporzionali alla massa o alla massa al quadrato, adesso non ricordo. Queste correzioni però diventano importanti per il muone. Il muone pesa 200 volte più dell'elettrone e si vede che, già andando ai primi ordini di sviluppo, è necessario considerare anche i contributi che vengono al di fuori dell'elettrodinamica quantistica e quindi significa spingersi nei regni delle interazioni deboli e delle interazioni forti, che è cosa ancora più importante, quindi la cromodinamica quantistica e la teoria elettrodebole. Questo complica la situazione enormemente e rende anche il calcolo di questo g-2, questo fattore giromagnetico, meno preciso. Infatti per il muone si conoscono fino a 11 cifre decimali, se non sbaglio, quindi circa mille volte peggiore che per l'elettrone. Però il punto è che, diciamo, dovendo includere nel calcolo contributi che vengono da tutte sostanzialmente le interazioni del modello standard, questo calcolo è una prova significativa della potenza appunto del formalismo della quantum field theory e appunto il modello standard delle particelle, quindi è un calcolo molto più interessante da questo punto di vista. Appunto, ecco, per la QED, che è la teoria di campo più semplice, quindi l'elettrodinamica quantistica, il calcolo è stato portato avanti fino al quinto ordine delle perturbazioni, che significa, nei termini di diagrammi di Feynman, diagrammi che possiedono fino a 5 loop. I loop sono cammini chiusi, sono percorsi chiusi in questi diagrammi e ogni loop corrisponde a un termine di autointerazione, quello di cui parlavo all'inizio, quindi la particella in un certo senso che con il proprio campo interagisce con se stessa e questo dà origine a correzioni. Il calcolo a 5 loop, o comunque a un grande numero di percorsi chiusi, quindi a ordini alti nella perturbazione, è molto complicato, sia dal punto di vista analitico, quindi il punto di vista di formulare questi termini, questi elementi di matrice, perché alla fine sono calcoli perturbativi, prevedono l'uso degli elementi di matrice di questi operatori sui vari stati, e anche numericamente, perché questi calcoli ovviamente non si possono condurre a mano su un foglio di carta, bisogna dare in pasto queste formule a un computer. E questi calcoli quindi sono stati portati avanti negli anni e oggi sono molto accurati. Quindi questo però non comportava particolari difficoltà concettuali. Invece per la QCD e per le interazioni deboli è stato necessario ricorrere anche a degli altri scamotage, degli stratagemmi, perché per esempio la cromodinamica quantistica è perturbativa solo alle alte energie, ma facendo i calcoli ci si accorge che anche i termini di bassa energia nella teoria delle interazioni forti diventano importanti, e per calcolare questi non è sufficiente, insomma non è così altrettanto agevole, e questi termini vengono da correzioni adroniche, sono termini adronici, cioè risonanze energetiche con masse di certi adroni, come sono per esempio pioni o protoni o cose del genere. Questi sono termini che non si possono calcolare in teoria delle perturbazioni e quindi è stato necessario ingegnarsi per trovare un metodo per risolvere la questione. Quindi questa è una cosa che ha coinvolto, richiesta molto più impegno. Allora, per maggiori approfondimenti, io non entrerò assolutamente nei calcoli, nel dettaglio di come questi calcoli vengono effettuati, vi rimando ad un libro che si chiama, in maniera poco originale, The Anomalous Magnetic Moment of the Moon, o Mewon, di Frederick Jäger Lener, spero di averlo pronunciato correttamente, che è un libro di oltre 400 pagine, una monografia su questo argomento, il corso di, cioè sostanzialmente per comprendere non è necessario padroneggiare la fisica teorica, quindi non è chiaramente alla portata di tutti. Io l'ho studiato perché mi piaceva tantissimo l'approccio che ha usato e anche perché l'obiettivo di questo libro, di questa monografia, è quello di mostrare tutta la potenza della formulazione della teoria quantistica dei campi, in particolare della teoria perturbativa, per risolvere questo particolare problema e mostrare quindi come sia tutto formalizzato in modo sistematico, quanto questo approccio sia potente, in effetti. Oltretutto ho apprezzato moltissimo la frase introduttiva che è The closer you look, the more there is to see, scritto nella prima pagina prima dell'introduzione, che significa più si guarda un problema da vicino, più cose si scoprono che non conoscevamo e in senso più lato, diciamo, in senso più metaforico, più si ci spinge in profondità nell'indagine di un problema e più si scoprono cose meravigliose, cose inaspettate, no? E la complessità aumenta sempre di più, è esattamente questo il problema, cioè più si sonda il problema, la questione, a livelli di distanze piccole, che significa andare all'ordine più alte nella perturbazione, che in termini di energia significa andare a energie più alte, e più fenomeni o processi entrano in gioco, fino a che bisogna includere diagrammi che possiedono un grande numero di loop e coinvolgono tutte le particelle elementari in tutti i possibili modi. Quindi è una cosa spettacolare, secondo me. Quindi nonostante la questione, il calcolo di questa quantità di per sé sia sostanzialmente fine a se stesso, non ha nessuna utilità pratica e anche forse poco interesse dal punto di vista generale, è sostanzialmente appunto una testimonianza, è un simbolo di quanto questo approccio sia potente e di quanto le cose si facciano complicate quando uno va a indagare un fenomeno come questo a questi livelli di profondità. E quindi niente, e questo oltretutto riflette il livello di complessità intrinseca della natura, cioè più ci si spinge in profondità nello studio di un sistema, in questo caso una particolare proprietà di una particella elementare, e più si scopre che tutta la fisica che conosciamo viene coinvolta per contribuire con una correzione al valore che conoscevamo a livello più superficiale, all'ordine zero, se vogliamo così. Non mi spingerò più in là con le metafore, però questo vale anche per lo studio di qualunque cosa forse. Ha una vista più superficiale, una visione più appunto sbrigativa, la cosa può sembrare priva di interesse, ma più ci si spinge in profondità e più si scoprono cose meravigliose che incrementano il nostro interesse, quindi ci spingono a continuare allo studio di questa cosa. La complessità di questi calcoli e anche della natura, quindi, si apprezza molto di più osservando i diagrammi che vi mostrerò in seguito presi da questo libro. A questo punto vi lascerei appunto a queste immagini e quindi ci vediamo alla fine per le conclusioni. Dunque, come dicevo, voglio mostrarvi alcune immagini o alcune pagine da questo libro di cui vi ho parlato per darvi l'idea di, diciamo, di quanto sia complesso il calcolo di questa quantità, questo g-2 è un fattore giromagnetico, e di quanto siano affascinanti anche però, per così dire, quanto è affascinante la formulazione matematica e quanto sono interessanti i diagrammi di Feynman associati ai vari componenti. Allora, per questo aprirò questo documento, che è una versione elettronica di questo libro, che io sono riuscito a procurarmi, e andrò a certe pagine che ho selezionato perché secondo me sono particolarmente significative. Innanzitutto, in una delle prime pagine compare appunto la scritta in cui vi parlavo, The Closer You Look The More Delis To See, che è praticamente il senso generale di questo approccio e anche di questo libro, se vogliamo. C'è tutta un'introduzione, probabilmente sul momento magnetico o un'introduzione generale all'opera, che però salterò, e andrò direttamente a qualcosa di un pochino più sostanzioso, qualcosa di più interessante. Allora, qui c'è una introduzione, un riassunto, diciamo un richiamo alla quantum field theory e la QED o elettrodinamica quantistica. Vengono introdotti concetti che sono fondamentali per capire i calcoli che vengono effettuati, però appunto siccome non voglio entrare troppo nei dettagli matematici, questa parte serve solo per capire che questo libro è anche abbastanza autoconsistente, fornisce anche le basi per poter comprendere, non assume, non dà troppe cose per scontato. Più avanti c'è un argomento che è un pochino più specifico, l'origine dello spin. Siccome il momento magnetico è associato allo spin, che come ho detto è una proprietà intrinseca delle particelle, non ha un analogo classico, qui viene fornito una, diciamo, un'interpretazione o comunque una spiegazione di cosa consiste lo spin per una particella elementare, come si comporta, quali sono gli operatori associati allo spin. Poi andando velocemente avanti, questo fa sempre parte del primo capitolo, abbiamo l'elettrodinamica quantistica un pochino più in dettaglio, quindi si parla della Lagrangiana, della QED e come si implementano i vari calcoli, quindi le regole di Feynman e i diagrammi associati, appunto le quantità associate ai diagrammi di Feynman, come si calcolano quindi le ampiezze dei processi, le regole di Feynman sostanzialmente. Si cominciano a vedere dei diagrammi, ma più avanti se ne vedranno di molto migliori. Poi si passa a un argomento più avanzato, che è la teoria della rinormalizzazione. Sostanzialmente quando si va a calcolare ampiezze di processi o decadimenti, sezioni d'urto e scattering e così via, bisogna calcolare i vari termini agli ordini più alti nelle perturbazioni. Quando si va all'isopra del primo ordine, dell'ordine che si dice ordine albero, in cui i diagrammi non hanno loop, appunto si richiede un procedimento di rinormalizzazione che serve a cancellare degli infiniti, delle quantità che tenderebbero all'infinite e che quindi non sono fisicamente realistiche, non hanno senso fisico. E quindi Feynman, insieme a altri colleghi, mi sembra Tomonaga e Swinger, che sono stati per questo insegnati del premio Nobel, hanno sviluppato la teoria della rinormalizzazione, che serve a portare i calcoli appunto al di là del primo ordine. Quindi si può andare un pochino più avanti. ecco, questi sono un esempio, non voglio spiegare cosa significhino, ma sono esempio di come si calcolano i loop al primo ordine, quindi diagrammi che hanno un loop, quindi un ciclo interno chiuso. Questo nell'elettrodinamica scalare, se non sbaglio, però comunque la stessa vale per l'elettrodinamica spinoriale, quindi con spin. E si vede che le espressioni sono piuttosto complicate, quindi solo per il primo ordine, quindi all'ordine con un solo loop, si vede che le espressioni sono piuttosto complesse. Più avanti vediamo semplicemente un risultato perché poi vengono eseguite una serie di calcoli e di passaggi. Qui si vede, se non ricordo male, il risultato finale del calcolo a un loop, che è questo famoso fattore α su 2π greco, che consiste nella prima correzione appunto al fattore giromagnetico ad opera di Schwinger. Quindi tutti i primi calcoli, la prima sessione di calcoli serve a ricavare questo valore. Più avanti vengono mostrate altre cose interessanti. Questi sono contributi all'elettrodinamica scalare, quindi priva di spin da parte di pioni, che sono particelle costituite da due quark. In particolare c'è per esempio il contributo dal π0, che è un pione neutro, che decade in due fotoni. Quindi è un processo elettrodinamico, cioè elettromagnetico, che però coinvolge particelle non elementari. Qui si comincia a vedere un po' di complessità. Più avanti... Ecco, questo capitolo è importante perché spiega sostanzialmente le proprietà dei leptoni, che sono appunto elettrone, muone e tau, e i rispettivi neutrini, in particolare per quanto riguarda il momento magnetico. Quindi questo è un capitolo che serve a fornire un po' la fisica dei leptoni e le loro proprietà, le loro caratteristiche. E avanti... Qui si entra un po' più nel dettaglio del calcolo, dei vari contributi, delle varie correzioni. In particolare qui in elettrodinamica quantistica si valuta l'effetto della massa, quindi quanto la massa della particella entri nei contributi all'ordini più alti. Si vede per esempio che l'elettrone è relativamente leggero e quindi le correzioni dovute alla sua massa sono piccole, mentre per il muone le cose sono diverse perché la sua massa è più grande e quindi è necessario tenerne conto per i calcoli successivi. Per il tau la massa è ancora più alta, però il tau è difficile studiare sperimentalmente perché ha una vita media molto breve e quindi anche eventuali calcoli teorici sono più difficili da confrontare con l'esperimento appunto. Più avanti ci deve essere un'illustrazione che ho voluto mostrare perché secondo me è abbastanza interessante, che è quella della polarizzazione del vuoto. Essenzialmente la polarizzazione del vuoto è il fenomeno per cui una particella carica nel vuoto crea intorno a sé una sorta di schermaggio elettrostatico nonostante non ci sia nessun mezzo. Il motivo è che coppie di particelle virtuali si creano nel vuoto e si polarizzano, quindi si orientano nella direzione della carica elettrica e quindi un'eventuale particella che si passi vicino alla prima vede un campo elettrico schermato da questa nube, se vogliamo, di particelle virtuali e questo è i contributi alla polarizzazione nel vuoto. Nei diagrammi di Feynman si manifestano appunto come loop che sono essenzialmente coppie di particelle virtuali e per esempio elettrone e positrone che danno un contributo appunto al calcolo delle ampiezze. Poi c'è tutta una serie di immagini che voglio mostrarvi che sono diagrammi sostanzialmente, quindi non c'è più tanto da dire quanto da ammirare. I diagrammi sono, questi sono per l'elettrodinamica, quindi per la QED, questi sono diagrammi a secondo ordine, quindi con due loop, quindi hanno una complessità ancora relativamente contenuta. Proprio avanti, forse posso sinceramente scorrere verso il basso, si vedranno diagrammi a tre loop, quindi si vede che il numero aumenta perché il numero di possibili configurazioni aumenta e anche la complessità dei calcoli ovviamente aumenta. Più avanti ancora si dovrebbero trovare i quattro loop. Questi diagrammi sono interessanti perché vedete che anche all'interno del loop si creano loop secondari, loop candidati se vogliamo, e qui sono solo una piccola parte di tutti i diagrammi possibili. Scendendo ancora si dovrebbero vedere i cinque loop, un piccolo numero di possibili contributi a cinque loop, esatto. Di questi ce ne sono un numero spropositato, quindi il calcolo è molto complesso anche dal punto di vista numerico. Più scendendo ancora si esce, se non sbaglio, dalla QED, esatto, questi sono contributi dalle interazioni deboli che prevedono quindi l'uso anche dei bosoni vettori WZ e qui c'è anche l'X, quindi il campo di X. Velocemente, pagina prossima, ci sono contributi all'ordine successivo delle interazioni deboli e andando più avanti c'è un intero capitolo, se non sbaglio, dedicato agli effetti adronici, quindi contributi dalla QCD o quantum chromodynamics, però per quanto riguarda la parte non perturbativa, quindi la parte che non è possibile calcolare, per così dire, da principi primi, secondo la teoria delle perturbazioni. E questa è una parte che introduce la maggior parte dell'errore, la maggior contributa all'errore, e infine c'è un intero capitolo dedicato agli esperimenti, che quindi mostra l'accuratezza degli esperimenti e fa il confronto con la teoria. E quindi il libro si conclude con delle conclusioni in genere. Quindi, a conclusione, voglio lasciarvi con alcune considerazioni conclusive. Beh, spero innanzitutto di avervi, con questa discussione, diciamo, avendovi presentato questi argomenti, di aver suscitato un po' di interesse nei vostri confronti, diciamo, verso la meccanica quantistica, le sue interpretazioni, anche qualcosa, qualcuna delle sue interpretazioni più fantasiose o più campate per aria, che io ho cercato di discutere. E questa sua applicazione particolare ha un problema apparentemente così rilevante, ma in verità, secondo me, molto interessante. Voglio lasciarvi per ulteriori approfondimenti. Questo video serve anche un po' per, eventualmente, aiutarvi a orientarvi in questo argomento, piuttosto complesso e vasto. Io ho realizzato dei video in passato, uno l'ho già menzionato, è Ontological Aspects of Quantum Field Theories, che è un video che tratta appunto di questi argomenti ontologici e che, quindi, entra un po' più nel dettaglio di certi aspetti specifici e questo a sua volta è ispirato e motivato da un articolo che avevo scritto e lascerò appunto questo link in descrizione. I miei video sulle teorie quantistiche di campo, se avete voglia di vederli, ma sono talmente vecchi e talmente male realizzati che, secondo me, non servono granché come introduzione, vi consiglio invece di seguire Random Physics, questo canale YouTube che ho consigliato anche nel video precedente, che tratta anche di didattica della fisica, non solo per quanto riguarda la relatività generale, ma anche per la meccanica quantistica e la teoria quantistica dei campi. Io ho realizzato dei video appositi. Se no, ci sono i miei video di cromodinamica quantistica, che sono solo 5 brevi video lezioni, che affrontano solo alcuni aspetti introduttivi, anche lì non vado molto in là nella spiegazione. E infine vi lascio, se proprio volete, al quinto episodio, il quinto capitolo diciamo del mio cosiddetto delirio matematico, che è questa serie di video che ho realizzato in bassa qualità e in ordine abbastanza, diciamo, incomprensibile, quindi sono veramente scarsi come qualità, che però in questo particolare episodio parla proprio di sette ottonormali completi e meccanica quantistica, quindi secondo me potrebbe essere utile quantomeno per capire il concetto del collasso della funzione d'onda sui suoi autostati attraverso l'operazione di misura. Però questo era solo per fornire qualche ulteriore materiale, altrimenti vi consiglio di leggere dei libri veri e propri. E questo è tutto, non so se proseguirò con questo mio intento di affrontare ogni volta un argomento nuovo, altrimenti chissà quando ci rivedremo, arrivederci al prossimo video.